Gustave Moreau è uno dei grandi protagonisti dell'arte europea dell'Ottocento francese, è considerato sotto molti punti di vista un caposaldo, un'origine in qualche modo del movimento che poi verrà conosciuto come quello del simbolismo. Il dipinto di Salomé che risale agli anni tra il 1885 e il 1990 è un tema che si presenta trattato ripetutamente da Moreau, Salomé rappresenta la seduzione, la capacità femminile di sedurre, di traviare o di portare anche a delle tragiche conseguenze come in questo caso la decapitazione di Giovanni il battezzatore. Il dipinto è ricchissimo di spunti e si riferisce a una tradizione, a una capacità tra l'altro eclettica di Moreau che poi verrà ripresa addirittura da artisti, poeti e letterati che si ispireranno alle sue tele, come è successo per il celeberrimo romanzo Arebours o a uno scrittore come Flaubert che si ispira proprio alle Salomé di Moreau per scrivere un suo celeberrimo e bellissimo testo Erodiad. Il dipinto costituisce assieme all'altro dipinto di Moreau presente in mostra una specie di ingresso alla nostra mostra, da qui derivano poi tutti i vari filoni che segneranno un percorso complesso, articolato e che risponde pienamente alle esigenze della manifestazione del genio e del demone della modernità.